Buongiorno, nel contributo di quest'oggi parleremo di uno dei più grandi scrittori della storia della letteratura, ossia James Joyce, e prenderemo in considerazione quello che da molti è considerato il suo capolavoro e inubiamente uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura del ventesimo secolo, vale a dire l'Ulisse, Ulysses, pubblicato nel 1922. Ovviamente parlare di un autore come James Joyce trovo che sia quasi superfluo, nel momento che si tratta forse dello scrittore irlandese più famoso, più importante, assieme a William Butler Yeats e a pochi altri che onestamente mi vengono in mente, indubbiamente uno scrittore come Joyce, che sicuramente quasi tutti conosceranno e avranno anche letto in parte, rimane un autore imprescindibile per qualsiasi amante della letteratura o anche semplicemente della cultura in generale. Joyce comunque sappiamo era nato in Irlanda nel 1882 a Dublino, morirà poi nel 1941, quindi diamo giusto gli anni, l'anno di nascita e di morte, la biografia sappiamo, ognuno può andarsela a cercare, a leggere per conto proprio. Possiamo dire che l'influenza che Joyce ha esercitato dopo la sua morte, dal momento che in vita purtroppo è stato uno scrittore non molto considerato. Il caso di Joyce è un po' come quello di Kafka o di altri grandi scrittori del Novecento che invece verranno poi riconosciuti e riscoperti in qualche modo soltanto dopo la loro morte. Per quanto ovviamente Joyce abbia goduto in vita di grandi stimatori, sappiamo ad esempio che Unitalo Svevo aveva avuto un rapporto di grande simpatia, di grande amicizia con il grande scrittore irlandese, sappiamo che Joyce infatti sorgionò per un discreto periodo a Trieste, la città di Svevo, e fu probabilmente anche tra i primi lettori della coscienza di Zeno, dato che infatti proprio anche grazie all'interessamento di Joyce che il grande scrittore italiano poi continuerà e proverà poi a pubblicare il suo romanzo. Sappiamo che l'Ulisse è un'opera che al suo interno contiene un po' tutto, contiene tutte le grandi influenze del periodo storico ovviamente in cui venne scritto, ma anche il romanzo che contiene al suo interno tutti gli stili narrativi, dal parodistico a quello dottrinale, allo stile saggistico, ovviamente anche l'influenza psicanalitica della psicanalisi freudiana, anche di Jungiana, che sappiamo che Joyce aveva anche conosciuto proprio di persona, che è Augusta Fiumge, indubbiamente sono altri aspetti che rendono questo romanzo assolutamente moderno e innovativo. Parlare, come ho detto poc'anzi, dell'Ulisse è veramente complesso. Possiamo raccontare velocemente che la storia di una giornata, dal momento che tutto il romanzo, tutta la vicenda si svolge all'interno di un'unica giornata, il 16 giugno 1904, per essere precisi, tra l'altro come molti sapranno è un romanzo lunghissimo, canamole veramente odisseica, un po' come un altro grande capolavoro che un giorno forse proveremo a commentare, che è la ricerca ovviamente di Proust, ecco se dobbiamo dire quali sono stati indubbiamente i romanzi più importanti, da un punto di vista stilistico anche dell'innovazione del Novecento, indubbiamente la ricerca di Proust, l'Ulisse di Joyce, così come anche il processo di Kafka, e io aggiungerei pure Il Maestro e Margherita di Bulgakov, sono indubbiamente i romanzi più importanti. Ma l'Ulisse, diciamo, ha qualcosa che in un certo senso gli altri non hanno. Intanto ha questa particolarità, come abbiamo detto, molto più marcata rispetto agli altri romanzi che abbiamo citato poc'anzi, che è quella del flusso di coscienza, questa tecnica di scrittura che chiaramente non era stata inventata da Joyce, ma che era molto diffusa in quegli anni, adoperata da autori come Virginia Woolf o come anche T.S. Eliot, cioè quella tecnica in cui i pensieri del protagonista scorrono così, senza punteggiatura, scorrono in maniera libera, fluida, proprio per definire anche la contemporaneità, ma anche il procedimento molto intricato che sottostà proprio ai processi mentali dell'io narrante. Infatti tutto il romanzo, come dicevamo, l'Ulisse è narrato in prima persona dai diversi personaggi che compongono questa storia, chiamiamola storia anche se poi non è una vera e propria, diciamo, questa vicenda. E' la storia, come diciamo, ambientata in una giornata di un gruppo di abitanti di Dublino che si incrociano durante questa giornata e descrivono tutto ciò che gli avviene attraverso la tecnica ovviamente del monologo interiore, che è un continuo in questo romanzo. I tre personaggi più importanti sono Leopold Bloom, che forse è il protagonista vero e proprio della vicenda, che è questo ebreo irlandese. Abbiamo ovviamente la moglie, tra l'altro, la nostra Molly, Molly Bloom, e il personaggio di Stephen Dedalus, che è questo uomo molto colto, questo intellettuale che in qualche modo rappresenta il polo opposto rispetto alla figura ovviamente del personaggio di Leopold Bloom. In questi tre personaggi possiamo trovare dei riferimenti ai personaggi dell'Odissea, anche per questo ovviamente il nome, il titolo Ulisse, al romanzo. Il personaggio di Leopold Bloom non è altro che la controfigura di Ulisse, il personaggio di Molly Bloom non è che la sua sposa, Penelope, mentre il ruolo di Telemaco è assunto dal personaggio di Stephen Dedalus. Esattamente come nell'Odissea Omerica, dove tutta la vicenda di Ulisse non è altro che un continuo viaggio, un viaggio però all'esterno, attraverso tutte le avventure, attraverso le isole, i personaggi che incontra, le diverse prove anche che deve superare per poter tornare dalla sua Penelope. Nel caso invece dell'Ulisse di Joyce, anche qui troviamo una continua peregrinazione, un continuo viaggio, ma piuttosto che un viaggio esteriore è un viaggio interiore in questo caso. L'importanza di Joyce infatti nella storia della letteratura è iniziata a svilupparsi a partire dagli anni 50, intorno tra gli anni 50 e anni 60 Joyce divenne in qualche modo un modello per moltissimi scrittori, per le avanguardie sperimentali, ma addirittura l'influenza joyceana la possiamo trovare anche nella musica ad esempio o addirittura nel cinema. Proprio questa capacità che ha avuto soprattutto in questo romanzo, che infatti è forse il romanzo più citato probabilmente anche del Novecento, e se dobbiamo infatti fare un parallelismo con il secolo precedente, col XIX secolo, l'Ulisse per certi versi sta al Novecento quanto Guerra e pace di Tolstoi sta all'Ottocento. Perché se noi dobbiamo dire infatti qual è il romanzo più importante del XIX secolo, il primo che personalmente mi viene in mente è Guerra e pace di Tolstoi, proprio per la sua mole non soltanto compositiva ma anche per la sua descrizione realistica in questo caso degli avvenimenti, delle battaglie, di tutti gli eventi storici che Tolstoi descrive con magistrale cura. Pensiamo che a volte in Guerra e pace ci sono momenti in cui Tolstoi impiega quasi un capitolo intero per descriverci gli interni di una stanza. L'Ulisse di Joyce invece ha la stessa importanza che ha avuto Guerra e pace nell'Ottocento, proprio per la sua capacità invece di completamente stravolgere anche le regole narrative. Perché se il romanzo fino a quel momento si limitava tendenzialmente anche a descrivere gli eventi in senso concreto, gli eventi in maniera realistica, dando una definizione, una forma anche alla realtà circostante, come era nel caso di Tolstoi, nel caso di Joyce invece la realtà viene completamente deformata. Nel senso che a Joyce non interessa raccontare quello che avviene all'esterno. Ad esempio se la giornata è bella o brutta, descriverci l'interno di una stanza. Non è quello lo scopo della sua opera, ma è tendenzialmente quello di raccontare tutto il mondo interiore che è all'interno dei suoi personaggi, come nel caso del nostro Leopold Bloom e di tutta la sua giornata. Perché infatti se noi ci facciamo caso, quando noi ci svegliamo la mattina magari abbiamo in mente un'idea e successivamente ce ne viene in mente un'altra e poi un'altra ancora. Spesso queste idee sono scollegate tra loro, non hanno nessuna linea che le unisca. Però per noi questi pensieri che ci vengono a volte sono importanti per quello che poi dobbiamo fare durante la giornata. Ecco, Joyce è interessato proprio a descrivere questi processi mentali, il mondo delle percezioni. Io per questo, a mio parere, il mondo di Joyce, la prosa, anche lo stile, Joyce Anna, lo possiamo ritrovare ad esempio nel cinema di un David Lynch, un autore ovviamente che sappiamo anche nello stile cinematografico che utilizza, non c'è mai una narrativa cronologica, gli eventi sono sempre molto, a volte, a volte difficili anche seguire ovviamente tutto lo svolgersi della vicenda. Perché vive, un cinema che vive di percezioni, che vive di immagini, quelli che sono gli stati mentali dei protagonisti, esattamente quello che avviene con Joyce. Quindi è evidente che la lettura dell'Ulisse può risultare a volte anche molto faticosa, è un romanzo, sappiamo, anche lunghissimo. Ma proprio invece questa capacità che ha Joyce di raccontare non soltanto il mondo interiore, ma anche le sensazioni psicofisiche, che è difficilissimo descriverle, poterle restituire sulla carta. I numerosi pensieri che sorgono in noi, quei pensieri a volte che non si tramutano neanche in pensiero, ma in semplici input che la mente a volte comincia a ricevere. La bellezza anche dell'Ulisse, l'importanza che forse, ecco, se non lo andiamo a vedere da un punto di vista del contenuto, a volte Joyce è stato criticato perché si è visto, diciamo, come un autore poi dai contenuti vuoti, che non si capisce bene che cosa voglia trasmettere. Ma analizzarlo solo da questo punto di vista trovo che sia estremamente sbagliato. L'opera di Joyce non ha come punto di riferimento, infatti, la volontà di descriverci soltanto un aspetto della realtà, ma la sua volontà è quella di prendere in considerazione la cultura e l'intera storia dell'umanità. Sappiamo che infatti nell'Ulisse questa opera è piena di riferimenti culturali alla filosofia, alla letteratura, alla musica, alla storia dell'arte. Tra l'altro anche durante questa passeggiata per la strada di Dublino i confini tra dentro fra la realtà esterna e la realtà interna diventano così sottili che a un certo punto è come se si fondessero in maniera assoluta. È per questo che infatti Joyce ha proprio la capacità in questo romanzo di esprimere tutti gli stili fondendoli al suo interno, nella sua poetica, un po' quello che fece Picasso, se vogliamo dire così, con il cubismo. Non è un caso che siamo più o meno negli stessi anni in cui il grande maestro spagnolo cominciava a dedicarsi alla sua grande arte. Infatti, a differenza appunto dello stile che poteva essere inteso fino a quel momento del romanzo, dove il romanzo si doveva limitare a raccontare una storia ben precisa con dei personaggi, dei protagonisti, degli antagonisti, una vicenda, eccetera, una trama. In questo caso la trama risulta completamente slegata, ma non in maniera caotica e anarchica, come può sembrare ad una prima lettura, ma in una maniera assolutamente come se fosse un grande mosaico che poi un lettore attento deve cercare in qualche modo di rimettere insieme. È come un grande puzzle, dove appunto ogni protagonista, il punto di vista di ciascun personaggio, acquisisce una portata universale. Ognuno è il proprio mondo, d'altronde. Questo è anche un aspetto importantissimo dell'Ulisse. Ogni essere umano è il mondo al suo interno. Ciascuno vede le cose a modo suo, ciascuno sente le cose a modo suo, anche semplicemente il gusto, il palato. Anche una pietanza può avere un sapore salato, oppure magari sciapo per qualcuno o per un altro. Questa soggettività, questa capacità di entrare, ripeto, ovviamente influenzata anche da una tecnica che è quella dello stream of consciousness, ma anche dalla sua grande studio della psicanalisi. Sappiamo che in quegli anni aveva cominciato a prendere il via. Rende indubbiamente l'Ulisse un'opera molto difficile, indubbiamente per un lettore alle prime armi, diciamo così, ma un'opera imprescindibile. Ecco, leggere Joyce è come ascoltare la musica jazz. La musica jazz infatti è un costante fluire di musica, bisogna abbandonarsi anche ai suoni. Non è come un brano di musica classica che è costituito da delle regole ben precise, da una melodia, ecco, da un'armonia che riconosciamo subito, da un ritornello a volte anche, come ascoltare una canzone. Ma è un costante fluire che ci cattura e che ci trasporta anche in dimensioni a volte quasi oniriche. Infatti il romanzo oscilla sempre tra il sogno e la realtà in certi momenti, come nell'ultimo, nel finale, anche con il monologo della moglie del nostro Leopold Bloom di Molly. Quindi è un romanzo che io consiglio ovviamente di leggere, per molti magari anche avvicinarsi alla grande prosa di Joyce. Effettivamente, come molti hanno anche detto, dopo l'Ulisse dal 1922, un romanzo che l'anno prossimo compirà 100 anni, il romanzo non è più riuscito ad andare oltre, perché effettivamente è come se al suo interno questa quest'opera racchiudesse un po' tutto. Nonostante non sia personalmente il mio romanzo preferito, la mia opera letteraria preferita, è indubbiamente però l'opera più sperimentale, più audace, la più anche estrema per certi versi, per quanto poi Joyce scriverà ancora in seguito il Finegan's Wake, dove questa concezione che già aveva espresso nell'Ulisse la porterà avanti ancora in maniera più drastica. Ma sicuramente l'Ulisse è un romanzo che io consiglio di andarsi a studiare, di andare a leggere, per comprendere non soltanto la straordinarietà di un autore importantissimo quale James Joyce, ma anche la rivoluzione che questo romanzo è riuscito a creare, ad adoperare non soltanto nel campo letterario, ma anche proprio nel campo culturale. Tanto che è un romanzo oggi molto citato, però forse è più per una questione di moda, dal momento che poi forse molti non l'avranno neanche letto, l'avranno giusto sfogliato. E per questo motivo io consiglio assolutamente di andarlo a leggere, in occasione anche dal momento che l'anno prossimo saranno celebrati cento anni dalla pubblicazione dell'Ulisse, per poter apprezzare uno dei veri capolavori della letteratura del Novecento e di tutti i tempi. Grazie.